È un momento importante di integrazione, di scambio e di confronto, di culture diverse, anche in età diverse, ma vedo che poi alla fine la gioia che ti riescono a trasmettere nello stare insieme è veramente lì il valore aggiunto di tutto questo. Si rafforza e si estende il progetto di ospitalità per gli studenti statunitensi, nato grazie alla collaborazione con l'Accademia Europea di Firenze, 32 quelli arrivati nel borgo di Lucignano. Abbiamo iniziato questa esperienza con un'idea in testa, più o meno credevamo di sapere cosa volevamo, ce la siamo vista crescere e sbocciare tra le mani, gli abbiamo dato forma e quello che era nato appunto come un esperimento fatto con un numero limitato di studenti questo semestre è diventato un'esperienza per 92 studenti in quattro comuni diversi della Toscana ma ovunque si chiama Modello Lucignano. Ed è stato presentato anche a metà di ottobre alla conferenza internazionale dell'educazione superiore internazionale che si chiama Forum on Education Abroad e ha ricevuto una grande accoglienza. Dopo il benvenuto agli studenti è stata consegnata loro una gadget bag realizzata per l'occasione. Abbiamo preparato per loro questo zainetto con la forma del nostro comune, con un cuore, il nostro simbolo, come di dire portate un po' Lucignano con voi nel vostro cuore e che rimanga per loro un bellissimo ricordo del momento trascorso con noi. I ragazzi sono stati infine affidati alle rispettive famiglie lucignanesi. Il privilegio immenso di essere accolti in una comunità, di essere accolti nelle case, dalle famiglie, è una cosa preziosa che qualcuno ti apra la porta di casa e ti accolga. I ragazzi sono stati infine affidati alle rispettive famiglie.